Pierpaolo Pasolini scrive sul Corriere della Sera un articolo, il vuoto del potere, ovvero l'articolo sulle lucciole, che poi prenderà il nome di la scomparsa delle lucciole. La distinzione tra fascismo aggettivo e fascismo sostantivo risale niente meno che al giornale il Politecnico, cioè all'immediato dopo guerra. Così comincia un intervento di Franco Fortini sul fascismo, intervento che come si dice io sottoscrivo tutto e pienamente, non posso però sottoscrivere il tendenzioso esordio. Infatti la distinzione tra fascismi fatta sul Politecnico non è né pertinente né attuale. Essa poteva valere ancora fino a circa una decina di anni fa, quando il regime democristiano era ancora la pura e semplice continuazione del regime fascista. Ma una decina di anni fa è successo qualcosa, qualcosa che non c'era e non era prevedibile non solo ai tempi del Politecnico, ma nemmeno un anno prima che accadesse o addirittura, come vedremo, mentre accadeva. Il confronto reale tra fascismi non può essere dunque, cronologicamente, tra il fascismo fascista e il fascismo radicalmente, totalmente, imprevedibilmente nuovo, che è nato da quel qualcosa che è successo una decina di anni fa. Poiché sono uno scrittore e scrivo in polemica o almeno discuto con altri scrittori, mi si lasci dare una definizione di carattere poetico-letterario di quel fenomeno che è successo in Italia una decina di anni fa. Ciò servirà a semplificare e ad abbreviare il nostro discorso e probabilmente a capirlo anche meglio. Nei primi anni Sessanta, a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in campagna, a causa dell'inquinamento dell'acqua, gli aggiori fiumi e le roggie trasparenti, sono cominciate a scomparire le luciole. Il fenomeno è stato fulminio e folgorante. Dopo pochi anni le luciole non c'erano più, sono ora un ricordo abbastanza straziante del passato e un uomo anziano che abbia un tale ricordo non può riconoscere nei nuovi giovani se stesso giovane e dunque non può più avere i bei rimpianti di una volta. Quel qualcosa che è accaduto una decina di anni fa lo chiamerò dunque scomparsa delle luciole. Il regime democristiano ha avuto due fasi assolutamente distinte che non solo non si possono confrontare tra loro, implicandone in una certa continuità, ma sono diventate addirittura storicamente incommensurabili. La prima fase di tale regime, come giustamente hanno sempre insistito a chiamarli radicali, è quella che va dalla fine del dopoguerra alla scomparsa delle luciole. La seconda fase è quella che va dalla scomparsa delle luciole a oggi. Osserviamole una alla volta. Prima della scomparsa delle luciole. La continuità tra fascismo fascista e fascismo democristiano è completa e assoluta. Taccio su ciò che a questo proposito si diceva anche allora, magari appunto, nel Politecnico. La mancata epurazione, la continuità dei codici, la violenza poliziesca e il disprezzo per la Costituzione. E mi soffermo su ciò che ha poi contato in una coscienza storica retrospettiva. La democrazia che gli antifascisti democristiani opponevano alla dittatura fascista era spudoratamente formale. Si fondava su una maggioranza assoluta ottenuta attraverso i voti di enormi strati di ceri medi e di enormi masse contadine, gestiti dal Vaticano. Tale gestione del Vaticano era possibile solo se fondata su un regime totalmente repressivo. In tale universo i valori che contavano erano gli stessi che per il fascismo, la chiesa, la patria, la famiglia, l'obbedienza, la disciplina, l'ordine, il risparmio, la moralità. Tali valori, come del resto durante il fascismo, erano anche reali, appartenevano cioè alle culture particolari e concrete che costituivano l'Italia arcaicamente agricola e palioindustriale. Ma nel momento in cui venivano assunti i valori nazionali non potevano che perdere ogni realtà e divenire atroce, stupido, repressivo conformismo di Stato. Il conformismo del potere fascista è democristiano. Provincialità, rozzezza e ignoranza sia dell'elite che a livello diverso delle masse erano uguali sia durante il fascismo sia durante la prima fase del regime democristiano. Paradigmi di questa ignoranza erano il pragmatismo e il formalismo vaticani. Tutto ciò che risulta chiaro inequivocabilmente oggi perché allora si nutrivano da parte degli intellettuali e degli oppositori insensate speranze. Si sperava che tutto ciò non fosse completamente vero e che la democrazia formale contasse in fondo qualcosa. Ora prima di passare alla seconda fase dovrò dedicare qualche riga al momento di transizione durante la scomparsa delle lucciole. In questo periodo la distinzione tra fascismo e fascismo operata sul Politecnico poteva anche funzionare. Infatti sia il grande paese che si stava formando dentro il paese, cioè la massa operaia e contadina organizzata dal PC, sia gli intellettuali anche più avanzati e critici non si erano accorti che le lucciole stavano scomparendo. Essi erano informati abbastanza bene dalla sociologia che in quegli anni aveva messo in crisi il metodo dell'analisi marxista, ma erano informazioni ancora non vissute, in sostanza formalistiche. Nessuno poteva sospettare la realtà storica che sarebbe stato l'immediato futuro né identità di falsificare quello che allora si chiamava benessere con lo sviluppo, che avrebbe dovuto realizzare in Italia per la prima volta pienamente il genocidio, di cui nel manifesto parlava Marx, dopo la scomparsa delle lucciole. I valori nazionalizzati e quindi falsificati del vecchio universo agricolo e paliocapitalistico di colpo non contano più. Chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, risparmio, moralità non contano più e non servono neanche più in quanto falsi. Essi sopravvivono nel critico fascismo emarginato anche dal movimento sociale, in sostanza li ripuglia. A sostituirli sono i valori di un nuovo tipo di civiltà, totalmente altra rispetto alla civiltà contadina e palioindustriale. Questa esperienza è stata fatta già da altri stati, ma in Italia essa è del tutto particolare perché si tratta della prima unificazione reale subita dal nostro paese, mentre negli altri paesi essa si sovrappone con una certa logica all'unificazione monarchica e all'ulteriore unificazione della rivoluzione borghese e industriale. Il trauma italiano del contatto tra l'arcaicità pluralistica e il livellamento industriale ha forse un solo precedente, la Germania prima di Hitler. Anche qui i valori delle diverse culture particolaristiche sono stati distrutti dalla violenta omologazione dell'industrializzazione, con la conseguenza e formazione di quelle enormi masse non più antiche, contadine, artigiane e non ancora moderne borghesi che hanno costituito il selvaggio aberrante, imponderabile corpo delle truppe naziste. In Italia sta succedendo qualcosa di simile e ancora maggiore violenza poiché l'industrializzazione degli anni settanta costituisce una mutazione decisiva anche rispetto a quella tedesca di 50 anni fa. Non siamo più di fronte, come tutti ormai sanno, a tempi nuovi, ma a una nuova epoca della storia umana. Di quella storia umana le cui scadenze sono millenaristiche. Era impossibile che gli italiani reagissero peggio di così al tale trauma storico. Essi sono diventati in pochi anni, specie nel centro sud, un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale. Basta soltanto uscire per la strada per capirlo. Ma naturalmente per capire i cambiamenti della gente bisogna amarla. Io purtroppo, questa gente italiana, l'avevo amata sia al di fuori degli schemi del potere, anzi in opposizione disperata a essi, sia al di fuori degli schemi populisti e umanitari. Si trattava di un amore reale, radicato nel mio modo di essere. Ho visto dunque, con i miei sensi, il comportamento coatto del potere dei consumi, ricreare e deformare la coscienza del popolo italiano, fino a una irreversibile degradazione. Cosa che non era accaduta durante il fascismo fascista, periodo in cui il comportamento era completamente dissociato dalla coscienza. Vanamente il potere totalitario iterava e reiterava le sue imposizioni comportamentistiche. La coscienza non era implicata. I modelli fascisti non erano che maschere da mettere e levare. Quando il fascismo fascista è caduto, tutto è tornato come prima. Lo si è visto anche in Portogallo. Dopo 40 anni di fascismo, il popolo portoghese ha celebrato il primo maggio come se l'ultimo lo avesse celebrato l'anno prima. È ridicolo dunque che Fortini retrodati la distinzione tra fascismo e fascismo al primo dopoguerra. La distinzione tra il fascismo fascista e il fascismo di questa seconda fase del potere democristiano non solo non ha confronti nella nostra storia, ma probabilmente nell'intera storia. Io tuttavia non scrivo il presente articolo solo per polemizzare su questo punto, benché esso mi stia molto a cuore. Scrivo il presente articolo in realtà per una ragione molto diversa. Eccolo. Tutti i miei lettori si saranno certamente accorti del cambiamento dei potenti democristiani. In pochi mesi essi sono diventati delle maschere funebri. È vero, essi continuano a sfoderare raggiosi sorrisi di una sincerità incredibile. Nelle loro pupille si raggruma della vera beata luce di buon umore, quando non si tratti della miccante luce, dell'arguzia e della furberia. Cosa che agli lettori piace, pare, quanto la piena felicità. Inoltre i nostri potenti continuano imperterriti i loro sprolochi incomprensibili, in cui galleggiano il flatus vocis delle solite promesse stereotipe. In realtà essi sono appunto delle maschere. Sono certo che a sollevare quelle maschere non si troverebbe nemmeno un mucchio d'ossa o di cenere. Ci sarebbe il nulla, il vuoto. La spiegazione è semplice. Oggi in realtà in Italia c'è un drammatico vuoto di potere. Ma questo è il punto. Non un vuoto di potere legislativo o esecutivo, non un vuoto di potere dirigenziale, né infine un vuoto di potere politico in qualsiasi senso tradizionale, ma un vuoto di potere in sé. Come siamo giunti a questo vuoto? O meglio, come ci sono giunti gli uomini di potere? La spiegazione ancora è semplice. Gli uomini di potere democristiani sono passati dalla fase delle lucciole alla fase della scomparsa delle lucciole, senza accorgersene. Per quanto ciò possa sembrare prossimo alla criminalità, la loro inconsapevolezza su questo punto è stata assoluta. Non hanno sospettato minimamente che il potere che essi detenevano e gestivano non stava semplicemente subendo una normale evoluzione, ma sta cambiando radicalmente natura. Essi si sono illusi che nel loro regime tutto sostanzialmente sarebbe stato uguale, che per esempio avrebbero potuto contare in eterno sul Vaticano, senza accorgersi che il potere che essi stessi continuavano a detenere e a gestire non sapeva più che farsene del Vaticano, quale centro di vita, contadina, retrograda, povera. Essi si erano illusi di poter contare in eterno su un esercito nazionalista, come appunto i loro predecessori fascisti. E non vedevano che il potere che essi stessi continuavano a detenere e a gestire già manovrava per gettare le basi di eserciti nuovi in quanto transnazionali, quasi polizie tecnocratiche. E lo stesso si dica per la famiglia, costritta senza soluzioni di continuità dai tempi del fascismo, a risparmio, alla moralità. Ora il potere dei consumi imponeva a essa cambiamenti radicali nel senso della modernità, fino ad accettare il divorzio e ormai potenzialmente tutto il resto, senza più limiti, o almeno fino ai limiti consentiti dalla permessività del nuovo potere, peggio che totalitario in quanto violentemente totalizzante. Gli uomini del potere democristiani hanno subito tutto questo credendo di amministrarselo e soprattutto di manipolarselo. Non si sono accorti che esso era altro, incommensurabile non solo a loro, ma a tutta una forma di civiltà. Come sempre, solo nella lingua si sono avuti dei sintomi. Nella fase di transizione, ossia durante la scomparsa delle lucciole, gli uomini di potere democristiani hanno quasi bruscamente cambiato il loro modo di esprimersi, adottando un linguaggio completamente nuovo, del resto incomprensibile, come il latino, specialmente al domoro, cioè per una enigmatica correlazione, colui che appare come il meno implicato di tutti, in tutte le cose orribili che sono state organizzate dal 69 ad oggi, nel tentativo finora formalmente riuscito di conservare comunque il potere. Dico formalmente perché, ripeto, nella realtà i potenti democristiani coprano con la loro manovra d'automi e i loro sorrisi il vuoto, il potere reale procede senza di loro, ed essi non hanno più nelle mani che quegli inutili apparati che di essi rendono reale nient'altro che il luttuoso doppio petto. Tuttavia, nella storia il vuoto non può sussissere, esso può essere predicato solo in astratto e per assurdo. È probabile che in effetti il vuoto di cui parlo sia già riempendosi, attraverso una crisi e un riassestamento che non può non sconvolgere l'intera nazione. Ne è un indice, ad esempio, l'attesa morbosa del colpo di stato, quasi che si trattasse soltanto di sostituire il gruppo di uomini che ci ha tanto spaventosamente governati per trent'anni, portando l'Italia al disastro economico, ecologico, urbanistico, antropologico. In realtà, la farsa sostituzione di queste teste di legno, non meno anzi più funeramente carnevalesche, attuale attraverso l'artificiale rinforzamento dei vecchi apparati del potere fascista, non servirebbe a niente e sia chiaro che in tal caso la truppa sarebbe già per sua costituzione nazista. Il potere reale che da una decina di anni le teste di legno hanno servito senza accorgersi della sua realtà, ecco, qualcosa che potrebbe avere già riempito il vuoto, vanificando anche la possibile partecipazione del governo del grande paese comunista, che è nato nello sfacello dell'Italia, perché non si tratta di governare. Di tale potere reale noi abbiamo immagini astratte e in fondo apocalittiche. Non sappiamo raffigurarci quali forme esso assumerebbe sostituendosi direttamente ai servi che l'hanno preso per una semplice modernizzazione di tecniche. Ad ogni modo, quanto a me, se ciò ha qualche interesse per il lettore, sia chiaro. Io ancorché multinazionale, darei l'intera Montediso per una luciola.